Cari amici di Numafugio Italia, benvenuti in questo nuovo video, l'ultimo di quest'estate, diciamo così, un pochino divertente, tra virgolette, prima di rientrare poi un pochino in studio e per fare esperimenti e altre cose con le nostre applicazioni di montaggio video. In questo video vi porto alla creazione di titoli, sempre di titolazione si parla, però fatte con un'applicazione molto vecchia, perché io lo usavo molti anni fa, che riscopro ogni volta perché mi serve per fare degli intro, mi serve per fare dei titoli un po' di effetto, non ha ovviamente tante personalizzazioni, però quello che ha diciamo che lo fa bene, quindi se si trova la ricerca di un'applicazione che faccia dei titoli e che non mi faccia ovviamente perdere tempo perché sappiamo tutti che gli effetti sono belli da fare, non mi faccia tutto quello che volete, però è una perdita di tempo non indifferente, quindi se si trova qualcosa di pronto, bello però, perché questa app che vi dirò, vi svelerò fra un attimo, contiene tanti template molto belli, altrettanto altri che non sono, diciamo, un granché, però fra tanti ce n'è molto, diciamo, molto belli e che si utilizzano molto piacevolmente. Quest'app si chiama Intromate, è un'applicazione molto vecchia, come vi dicevo, che è apparsa molti anni orsono sull'App Store, che io ho comprato dal presente del primo iPad che ho voluto, quindi ho avuto, ho avuto, quindi si parla dell'iPad 2, forse iPad 2, e che ho utilizzato molto. L'applicazione, almeno, io ai tempi ho detto una castronata, forse all'interno del tutorial, ho detto che era gratuita per metà, a me sembrava così, poi adesso vedo sull'App Store che costa 4,49 euro, però diciamo che non è una grande cifra. Perché a metà? Perché io avevo preso l'applicazione gratuita e poi l'altra parte, i tempi diciamo un pochino più evoluti, un po' più belli, bisognava pagare questi 4 euro e qualcosa, però non so se adesso poi alla fine bisogna pagare la tutta, però 4,49 euro per quello che fa, poi vedrete nel video, secondo me, come dire, ne vale la pena. Restate fino alla fine, perché poi vedremo ovviamente di fondere il nostro titolo con i livelli di LumaFusion. Allora, avviamo Intromate, vi troverete davanti tutti i template, ovviamente io ho la versione a pagamento, come ho detto nell'intro, però esiste anche una versione gratuita. Avete due sezioni, due cartelle, qui chiamiamo le cartelle due tab, questi sono i template, sono messi a disposizione da questo bellissimo software e qua ci sono i miei progetti, sì, è vero, potete salvare i progetti, infatti riconoscerete qualcosa che avete già visto e la cosa è molto importante, secondo me, perché li potete chiamare, richiamare in qualsiasi momento e modificare. Cosa possiamo fare con questa applicazione? Innanzitutto possiamo creare, creare non è proprio la parola giusta, possiamo utilizzare questi template per introdotto intro, come dice la parola stessa, o come anche titoli, perché no, in un filmato che abbiamo fatto o in qualsiasi presentazione. Ce ne sono di variati tipi, svariati tipi, scusate, ovviamente hanno un loro background, quindi certi sono fondibili con i livelli, certi no, però si possono anche modificare, certi si possono anche modificare, possono modificare il colore di background, quindi abbiamo una doppia possibilità, nel senso che se vediamo, non so, prendiamo questo per dire, ok, questo qui. Ok, prendiamo questo, come vedete abbiamo, scusate, abbiamo un colore di sotto, vedete, questo è già inserito all'interno del template. Abbiamo la possibilità di fare questo, ovviamente io ve lo faccio vedere a grandi linee, poi se volete approfondirlo, basta dirlo. Abbiamo la possibilità di, la prima cartellina ci indica le immagini di sottofondo, come vedete abbiamo due immagini, una e due, ok? Delle volte ne abbiamo quattro, delle volte ne abbiamo una, a seconda del template. Qua spegniamo e accendiamo il background che abbiamo inserito, vedete che si accende e si spegne, così avviene per l'altra immagine. Possiamo ovviamente modificare il background andando all'interno di questa cartella qua, io lo chiamo cartelle, e selezionando dalla vostra libreria un'immagine da usare come background, quindi potete anche inserire a questo punto un nero, vedete, abbiamo inserito un nero. Quest'immagine qui, come vedete, non è compresa nell'animazione, ok? Vabbè, questo nero non è giusto. Vi faccio vedere perché, sì, adesso chiamiamo un nero perché questo non era quello giusto. Il giusto nero, forse questo qui, mi sembra, sì. Vedete che questo non è praticamente animato, ok? Se noi adesso spegniamo un attimo questo, come ho fatto vedere, così si spegne, e andiamo nella seconda immagine e andiamo a caricare, vedete qua c'è già qualcosa, se noi con questo tassino abilitiamo e disabilitiamo ovviamente il nostro background, vedete questo qua c'è già un background messo, con queste frecce possiamo posizionarlo, vedete, e questo però, come potete vedere, è animato, ok? E con l'animazione, quindi il primo di solito, eh, il primo è il background fisso, e il secondo di solito è il background che si muove, quindi spegniamo il secondo background e andiamo a inserire il primo background, lo andiamo a editare, vedete che adesso io posso aumentarlo di grandezza e ovviamente non ho più, come sottofondo, ok? Il background che c'era prima, ok? Questo qui per intenderci, ok? Quindi, cosa è possibile fare? È possibile mixare ovviamente questo background, il Luma Fusion, ok? Come un qualsiasi titolo e useremo questo. Andiamo a vedere, qui abbiamo la possibilità di cambiare i colori, a seconda del template, eh, questi colori variano delle parti, vedete che qua variamo tipo l'ombra, variamo il colore delle scie, compagnia bella, e in tutti i template, ok, abbiamo questa parte qui, quindi, però ognuno comanderà, c'è anche certi template che praticamente utilizzano questi slide per modificare il background, ma non è in questo caso, non è questo, ok? Andiamo avanti, qui abbiamo il testo, anche qui varia la, diciamo, il numero, eh, di frasi da poter inserire. Vediamo qua ce ne sono un tot, poi in certi tempi ce ne sono di più, e in certi tempi ce ne sono magari uno o due. Quindi, se vogliamo modificare il nostro testo, niente di più facile, basta cliccare sulla scritta, vedete che adesso io non sto utilizzando la tastiera per farvi vedere, ovviamente, come si utilizza normalmente, cancellate tutto quello che volete, ci mettiamo, ovviamente, cosa ci scriviamo? ci scriviamo, eh, canale, non c'è il correttore, quindi io se sbaglio, mi picchiate, ok, ci scriviamo canale YouTube, una volta fatto, dovete ovviamente uscire dalla tastiera, ma questo lo sapete fare, e questa l'abbiamo modificato, vedete che abbiamo modificato la nostra scritta. Andiamo avanti, qui ci sarebbe un altro testo che prende lo stesso stile di quello prima, ok? Se volete aggiungere una frase, ma io otterrò le frasi che mi consiglia lui. Andiamo avanti, vedete che qua abbiamo un altro testo, lo stesso, vedete, ok? E qui finalmente abbiamo una frase che abbiamo, eh, praticamente sotto, un sottotitolo, ogni tanto mi passa il treno sulla testa, ma sono gli ultimi giorni di vacanzina, ecco, anche qui potete ingrandir, eh, scusate, no, qua non potete spostare il testo, ok, ingrandirlo, certo, potete ingrandire non il font, ma il proprio, l'oggetto, e potete anche qui spostarlo con queste frecce. Ovviamente avanti avete gli altri stili che sono gli stessi. C'è una cosa da dire in questo programma molto, molto carino, che qua sotto abbiamo il controllo del nostro font, quindi possiamo utilizzare, possiamo cambiare il font, ovviamente, sì, l'hai detto una scemata, la grandezza è data dal più e meno, quindi qui cambiamo solo lo stile del font, possiamo cambiare il colore, ovviamente, nel nostro font, anche qua agendo sulle nostre, i nostri slide-ini, ok? E possiamo utilizzare anche il gradient, molto, molto bello, ok? Noi ce ne stiamo sul normale, mettiamo un colore chiaro, che è un po' incasinato, comunque va bene così. Abbiamo la possibilità di aggiungere un contorno al nostro testo, ok? Si abilita così, si mette anche qua i colori, tutto quello che volete, e si disabilita tornando indietro, adesso è disabilitato, sembra di sì. E qui abbiamo l'ombra, quindi abbiamo un sacco di controlli che possiamo utilizzare per il nostro testo. Andiamo un po' a ingrandirlo. Quindi abbiamo questi comandi. Come ultima parte abbiamo gli effetti sonori, che qui sono già preimpostati, infatti avete sentito il suono che c'era prima, però possiamo anche caricarne, oppure possiamo praticamente zittirlo. Di qua possiamo caricarlo, ma dai tunes non funziona assolutamente, possiamo importarlo da una posizione nel nostro cloud drive, quindi possiamo importare un effetto che abbiamo all'interno. Vediamo un pochino se ho una musichina, perché poi queste sono musiche che ho preso da YouTube, ma sono molto lunghe, quindi adesso andiamo a sentire che cosa combina. Ecco, fate conto, per ogni testo abbiamo un suono, quindi per questo abbiamo sentito, se io adesso lo zittisco questo, sentiamo un po' cosa succede. Non c'è più il suono, ok? C'è solo ogni stile, ogni, diciamo, sezione al suo effetto, quindi una cosa molto molto carina. Lasciamocelo così che va bene. Quindi abbiamo visto più o meno come utilizzarlo, adesso andiamo ad esportare il tutto, cliccando sulla solita concina, e abbiamo questi tipi di esportazione, vedete che abbiamo molte, molte scelte, addirittura il 4K a 60 frame per seconda. Ma noi facciamo esporta, la sezione esporta è così, lui mette nell'unico progetto fotografico, non c'è la possibilità di esportare direttamente il LumaFusion, quindi purtroppo ce la dobbiamo tenere così com'è. Una volta esportato andiamo ad importarlo il LumaFusion, come facciamo di solito. Bene, cambiamo locazione, andiamo in LumaFusion e andiamo a inserire questo titolo in un filmato. Facciamo così, creiamo un nuovo filmato, lasciamo pure 30, tanto non dobbiamo esportare da nessuna parte. Andiamo a caricare un background, sempre da Storyblocks. prendiamo la nostra solita montagna, che ci porta a fortuna, torniamo indietro e andiamo all'interno della nostra libreria video a caricare il nostro titolo appena fatto. Lo mettiamo qua, vedete, andiamo sulla clip e facciamo miscelazione schermo. Ok, eccola qua, guardate un po', con un botto abbiamo fatto un titolo. Che poi volendo possiamo anche animarlo con LumaFusion, cioè possiamo arrivare fin qua, ok? Arrivare affinché fate i tititi, poi ci facciamo un bel più, lo mettiamo fin qua e... Scusate, ho sbagliato locazione. Allora, vabbè ragazzi, si sbaglia, si impara, noi non... Allora, facciamo così. Ok, facciamo così. E facciamo così. E la facciamo un po' ingrandire a piacimento, eh? Ok, quindi avremo una doppia animazione a questo punto. Però, così, a me non piace. A voi piace? No. Vedete che abbiamo gli stessi gusti? Allora, facciamo così. Cancelliamo subito il frame qua e lo facciamo partire da quando arriva il... Ecco qua, da qua. Facciamo così. Più... Mi sembra che questo qua bisogna spostarlo. Vabbè, comunque lo sposteremo. Ok, e ingrandiamo il tutto. Sentiamo un po' se ci aggrada. No, questo bisogna spostarlo. Quindi, dobbiamo cancellarlo e lo spostiamo più avanti, ok? A questo qui, questo punto, questo punto. Facciamo così. Dovrebbe andare tutto a posto. Ok, diamo un po'. Eh? Ok? Quindi, come abbiamo creato un titolo di effetto la qualità è abbastanza buona. Abbastanza buona, mi sembra. Sì, abbastanza buona. Quindi senza praticamente alcun sforzo da parte. Benissimo, cari amici, cosa ne pensate? Io la trovo un'applicazione eccezionale. Certo, come ho detto, non ha tanti template personalizzabili, però quello che si può personalizzare, secondo me, può essere utile. Se volete un approfondimento, ma non ce ne sarà bisogno perché è abbastanza semplice, me lo scrivete nei commenti. Rispondo subito agli amici che mi hanno chiesto se porterò dei tutorial sul timelapse, hyperlapse e slow motion. Ci sto pensando, devo realizzare i video ovviamente ad hoc, non prendo roba in internet per fare queste cose, perché ovviamente bisogna produrre qualcosa, diciamo, della farina nostro sacco, deve essere. Quindi sono di queste idee. Quindi appena posso produrre questi video, vi porterò ovviamente un tutorial, anche se c'è già un tutorial sul Lumafusion che riguarda lo slow motion e ve lo metto sopra nelle schede. Se mi ricordo, speriamo, se non lo vedete, chiamatemi, perché ovviamente me lo so scordato. E vi ringrazio per aver seguito questo video, ringrazio tutti quelli che hanno acquistato, anzi, non l'ho detto, c'ho una testa che non funziona. Acquistate i tutorial di Lumafusion per sostenere il canale. Ringrazio tutti quelli che hanno acquistato fino adesso, sia la versione fino all'1.7 che dalla 2.0 in poi, che sono 40 tutorial. Ovviamente quelli che trovate su YouTube non ci sono, diciamo, segreti, però ovviamente il costo, che è molto irrisorio, dei tutorial che potete vedervi su qualsiasi dispositivo e un sostegno per il mio canale. Tutto qui. Ovviamente visitate Lumafusion.it e troverete tutto lì. Vi ringrazio ancora e vi rimando al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.